buongiorno buongiorno a tutti ai nostri amici della di radio castelluccio rcs 75 oggi sono qui orfano di francesco di pasquale che spero sia presto con noi francesco è impegnato stato impegnato questa mattina a napoli poiché finalmente anche lui si è iscritto all'ordine dei giornalisti della campagna e ho con me un gratitissimo ospite che ti abbiamo aspettato così tanto roberto argenzio istruttore del club velico salernitano buongiorno 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 a tutti sei un poco emozionato il giusto che serve il giusto che serve senti io vorrei subito rompere il ghiaccio con una domandina va bene fa freddo fa freddo cioè ci vai a mare con questo tempo il freddo è sempre una questione il freddo è sempre una questione di percezione poi come si va a sciare in montagna ci si attrezza adeguatamente per le temperature basse così anche si può stare a mare tutto l'anno e attrezzarsi con vestiario adeguato però si fa freddo io non sono d'accordo no perché io ho una certa copertura naturale però ci siamo sentiti prima di natale tu mi avevi detto che è riuscito in barca eh sì anche perché se fa freddo soprattutto a salerno sono delle bellissime condizioni dove il vento viene dalle montagne è freddo però dà la possibilità di divertirsi davvero tanto in acqua se noi abbiamo il mare il vento in pratica la barca in penna plana 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 sull'acqua dimmi un po' questa passione da quanto tempo da 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 quanto tempo la vivi beh la mia passione è nata che mi ricordi verso i 7 8 anni io ho avuto la fortuna di un padre che spinto anche lui dalla curiosità giovanile di non aver potuto fare diciamo praticare questo sport o andare in barca a vela quando lui era giovane accortosi nella provincia di napoli dove abitavo prima che c'erano dei gruppi sportivi che praticavano questo sport si è informato e mi ci ha fatto provare da bambino all'inizio è tutto un gioco e poi mi sono trovato nel mio elemento mettiamola così per caso per caso e dove hai iniziato io ho iniziato a la mare di stabbia presso il circolo velico stabbia che ha avuto grandi natali negli anni 50 e 60 con i vecchi timonieri catello russo e montuori gente che ormai è scomparso un poco dal dall'ambiente ma che se ci si se si cercano nei libri di storia della marineria compaiono anche perché erano dei velisti che all'epoca le barche se le fabbricavano loro salute quindi stiamo parlando anche di maestri d'ascia di un certo livello veri e propri marinai e maestri d'ascia devo fare un'altra domanda e poi penso che tra un po andiamo anche in pausa perché già mi si sta facendo la colla così ti volevo chiedere Salerno ha una bella tradizione di wind cioè proprio c'è vento quindi anche a Castellammare tu hai le stesse condizioni è giusto bene o male a Castellammare abbiamo un motore tra virgolette termico che è il Monte Faito mentre a Salerno abbiamo la costiera amalfitana che d'estate ci regala belle bei periodi prolungati di vento teso e divertente no perché io mi sto immaginando che quando esco di casa dico mannaggia la miseria sta sto vento che poi è un po la tradizione di Salerno Salerno è una città ventosa immaginate invece che quando esci di casa c'è un po di vento prendo la barca e faccio un bel giro soprattutto d'inverno più freddo fa più vento c'è noi la vediamo diversamente dal nostro punto di vista sì per noi è estremamente divertente io proprio in base al fatto che oggi saresti stato qui è stato domenica se non sbaglio ho visto anche un'intervista a Giovanni Soldini che comunque Giovanni Soldini è un penso che sia un mostro della stiamo anche continuando a parlare tra un po perché adesso andiamo andiamo in pausa Grazie Allora stavamo parlando di Giovanni Soldini che dal punto di vista sulla diretta Facebook ha un altro c'è un altro target mettiamolo così non possiamo dire chiaramente parolacce peccato perché il mio modo comune di parlare perché se scrivo in un certo modo voglio anche potermi liberare in un altro modo però siamo comunque ospiti parliamo di Giovanni Soldini giusto per un attimo perché è un personaggio che a me ha sempre incuriosito immagino che da te visto come più un idolo un idolo cioè lui è milanesa milanesana è diventato tu sei nato sul mare ecco quello come è possibile vabbè è comunque uno sport che si pratica quanto attira il mare io sono nato sono nato e cresciuto vicino al mare Vabbè quella è una cosa che riguarda anche la predisposizione delle persone a spostarsi perché chi nasce sul mare non sente la necessità di fare chilometri per arrivare e stare a mare spesso anche d'inverno poi invece ci sono in altre parti d'Italia cosomai persone che possono muoversi sui laghi che sono molto più vicini dove ci sono delle condizioni di venti estivi e invernali che permettono comunque di praticare questo sport anche su grossi numeri e a grandi livelli poi vabbè Soldini si è mosso verso una direzione che è lo stabilire record su record su record di navigazioni in solitario sulle rotte più difficili del pianeta è partito probabilmente come sono partito io da un punto di vista sportivo giovanile e poi è diventato il primo ingegnere della propria barca sia per quanto riguarda la sicurezza sia per quanto riguarda la sperimentazione dei materiali ma giusto 5 secondi per rispondere una vita come quella di Soldini giri intorno al mondo e tieni Angela a casa la faresti? Sì o no? allora avevamo finito parlando di Giovanni Soldini abbiamo continuato nella nostra diretta facebook e proprio ti chiedevo una vita come la sua non la faresti giustamente tenendoti la tua fidanzata a casa che insomma quando torni te le dati santa ragione è anche giusto no? è anche giusto è anche giusto è una scelta un po' particolare ecco io oggi ho una età diciamo 43 anni ma una cosetta così ma è uno sporto quello della vela che potrebbero fare tutti? la verità è sì perché la possibilità di scegliersi il tipo di imbarcazione su cui imparare a portare la barca a vela ti dà l'opportunità di muoverti sia da un punto di vista giovanile e più atletico sia da un punto di vista più comodo è un poco poco più passivo all'interno di queste barca scusami se ritevo perché ma c'era la barca che mi affrontava sott'alto no queste sono cose che capitano veramente veramente e di rado secondo me il trasporto in barca a vela si può definire anche uno dei trasporti più sicuri al mondo perché ha altissimi standard di sicurezza che riguardano sia i materiali che la preparazione che devi avere per affrontare quello che vuoi affrontare quindi io una volta ho provato a salire su un windsurf molto 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 faticoso sicuramente le prime volte anche io anche perché la tavola era tutta coperta di resina bellissimo sì la maglia che non era proprio della mia misura e saliva tipo salsiccia alla fine non ti voglio dire che cos'ero diciamo che tutti un po' arrossato ecco le attività base se non vengono seguiti bene ma ci vuole da professionisti del settore possono essere difficoltori soprattutto molto difficili soprattutto alle prime fasi seguito bene avresti provato un poco di fatica iniziale ma poi con la tecnica tutto diventa più semplice e meno faticoso è divertente e allora adesso un attimo che ci fermiamo perché voglio leggere le local news e giusto perché ci sono anche altri sport anche molto interessanti però devo dire che il tuo è uno di quelli più interessanti con i quali ci stiamo approcciando in questo in questo momento oggi lunedì anzi no abituati che lo facciamo di lunedì oggi è mercoledì è giusto? sì siamo sicuri che è mercoledì? allora la Todis Salerno 92 si qualifica al Final Four della Coppa Campagna battendo a domicilio la Juve Caserta Academy ai quarti di finale della manifestazione il punteggio di 49-68 per le Granatine certifica un inizio anno per il sorriso del team presiduto da Angela Somma per quanto riguarda il calcio la Reiki Calcio doma Loiarese ed Eolo e ottiene la quarta vittoria stagionale i padroni di casa hanno fatto valere il cuore e l'esperienza e hanno controllato la partita sin dai primi minuti complicandosi la vita nel finale quando un disimpegno sulla tre quarti ha acceso le speranze delle Loiarese ma riuscendo comunque a portare a casa il bottino pieno e allora faccio un attimo un sondaggio con la regia regia quanto tempo ci abbiamo ancora? un minuto la regia oggi che non è il nostro solito Luca è come dire muta sparlagesti e allora ancora abbiamo un minuto ci sarà il primo gennaio di questo di questo mese non del mese prossimo di questo mese ci sarà il trofeo Nino cioè il trofeo Nino Nino Rainis in 30 secondi tu come stai messo rispetto a questo? noi come club c'è un po' di più tempo noi come club pelico salernitano il 19 di gennaio organizzeremo comunque una tappa del campionato invernale d'altura non mi ricordo se il trofeo Nino Rainis perché però il trofeo Nino Rainis è importantissimo Nino è stato un poco per me più che un padre è stato un nonno perché io me lo ricordo da bambino giudice sui campi di regata tuttora collaboro anche con la figlia al circolo nautico Torre del Greco che è una persona splendida quando Nino è venuto a mancare abbiamo sentito un grande vuoto sia nella vela salernitana che nella vela campana e onorarlo o almeno ricordarlo per tutti i sacrifici che ha fatto per la diffusione di questo sport e per come hai diciamo infuso amore e passione per il mare fa bene anche perché tante volte queste persone non devono essere dimenticate ok adesso entriamo con lo spot e ciao arrivederci allora continuiamo a parlare un attimo di Nino Rainis hai detto che l'hai conosciuto quando ero bambino lui era giudice di regata giudice di? sì 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 diciamo che questo sport si basa molto sul professionismo degli istruttori e sugli investimenti dei circoli però c'è una fetta di persone una gran parte di persone che svolgono un lavoro gratuito che sono i giudici di regata che permettono la gestione di queste manifestazioni in acqua non hanno, sono sportivi anche loro permettono a persone di fare sport e lo fanno gratuitamente Nino è stato uno dei portabandiera dell'attività tra gli anni 80 e gli anni 90 fin quando improvvisamente non è venuto a mancare ed è comunque venuto a mancare durante una manifestazione quindi fino alla fine quindi un shock incredibile è stato un dolore enorme però noi a questo punto noi vogliamo preferiamo ricordarlo come una persona che ci ha trasmesso tanto io stavo ricordando personalmente uno dei due approcci che ho avuto alla vela devo dire che essendo cresciuto vicino proprio a 50 metri dal mare a 150 metri dalla Masuccio Serenitano è un mondo che mi ha sempre affascinato chiaramente bisogna avere immagino bisogna avere anche alle spalle un po' chi ti spinge un po' chi ti sostiene anche dal punto di vista economico e devo dire che le due volte che sono salito su una barca a vela mi ha mi ha emozionato mi ha emozionato tantissimo ti volevo chiedere proprio da questo punto di vista perché io sono proprio di quella zona com'è la condizione la situazione del Masuccio Serenitano proprio dal punto di vista anche strutturale le strutture, le barche quello che posso dire anche ai radioascoltatori che le società che sono presenti in questo momento sono più social social ascoltatori ah vabbè quello che posso dire ai social ascoltatori buongiorno è che le società che sono presenti all'interno del porto ogni anno combattono comunque con il fatto che il porto non è stato mai realmente finito quindi ogni volta che arriviamo in periodi di perturbazione ottobre, novembre, dicembre abbiamo difficoltà non solo a portare avanti l'attività ma anche a proteggere i beni delle società proprio i pontili, le barche questa è una cosa che ti faccio ripetere durante l'FM ecco, ci vorrebbe un occhio in più delle istituzioni su questo fatto quello che posso assicurare è che gli addetti ai lavori fanno di tutto per mantenere le strutture il più pulite e efficienti possibile e i soci delle stesse società lavorano con passione per cercare di valorizzare un'area al centro della città che dato che non è ancora del tutto agibile non può essere migliorata più di tanto però la passione dei soci del club velico salernitano e penso di parlare anche a nome della Lega Navale si vede nella continua manutenzione e presenza all'interno delle aree ok bisogna che cosa bisogna fare per entrare nel club velico? vabbè, c'è una richiesta che si pone alle segreterie dove devi essere presentato da un socio il consiglio direttivo, il consiglio dei problemi viri se non erro perché io mi occupo dell'aspetto sportivo vaiano la richiesta, se non ci sono impedimenti si diventa socio pagando una quota d'ingresso e una retta annuale questo dà, tra virgolette, diritto ad avere l'accesso al club, alle zone portuali ad avere la possibilità di andare in graduatoria per avere una barchina a quei pontili a prezzi concorrenziali e ovviamente sei al centro di una città che ha quattro passi dalla costiera amalfitana quindi non solo hai la ristorazione il bar del club la possibilità di interagire con i soci di parlare, respirare, sport all'interno di queste aree ma anche di vivere il mare come dovrebbe essere vissuto da tutti i cittadini di una città che affaccia sul mare ho capito ho capito tra un poco entriamo quindi risparmiamoci anche un po' di domande anche perché poi la nostra la nostra prima come dire il nostro primo punto di ascolto è quello radiofonico quindi entriamo da là va bene prima di tutto e ci risiamo siamo ancora qui nuovamente qui Francesco non è arrivato e dopo 20 minuti di trasmissione inizio a dubitare che questa mattina la finirò con il mio conduttore co-conduttore starà già festeggiando starà già festeggiando sì 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 poi lo festeggio pure io a ben dovere mentre eravamo sull'onda social ti facevo delle domande che in qualche maniera implicano anche quelle che sono le istituzioni ti chiedevo del Masuccio Salernitano in questo momento in che condizioni sia il Masuccio Salernitano dopo le quasi sei perturbazioni nell'arco di un mese e mezzo di questo fine autunno inizio inverno ne sta uscendo visibilmente provato fortuna che all'interno come dicevo anche prima nell'area social fortuna che all'interno dell'area ci sono società soprattutto sportive e associazioni diportistiche che cercano di mantenere efficiente l'area stessa cosa che ho detto nell'area social ci vorrebbe un attimino un po' più di interesse dalle istituzioni cioè che dalle promesse degli ultimi 30 anni si passasse un pochettino ai fatti per mettere in sicurezza un porto che è fondamentale per la città e che le potrebbe dare ancora più lustro di quanto non lo faccia già adesso insomma un vecchio pianilla un pianilla quegli 80 metri l'ho detto proprio in salernitana maniera noi ogni giorno guardiamo il mare speriamo che compaia tu da quanto tempo sei lì? io sono quasi 11 anni che lavoro tra il al club velico salernitano quindi il famoso quasi sbarco della Yasmina Beach sì sì della Yasmina vissuto tutto quanto visto è stato anche interessante come l'hanno fatto io ero proprio nel masuccio salernitano quando la nave si è arenata sì sì stava per entrare proprio nel porticciolo sì 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 fortuna che si è arenata un po' prima un po' più là un po' dopo vabbè fu una bella esperienza anche quella da vivere e ti chiedevo prima su facebook che cosa bisogna quali sono i requisiti che bisogna avere per entrare nel club velico i requisiti sono di essere sicuramente una brava persona perché poi quando per entrare in una società sportiva brava persona tu che intendi non bisogna avere sani principi morali mettiamola così devi essere presentato da dei soci fai la richiesta e poi il consiglio direttivo insieme al consiglio dei probivi rivaluta la proposta e se non ci sono impedimenti viene accettato da che si paga una quota e si ha l'accesso a tutti i servizi che possono offrire le società dai corsi di scuola vela per bambini per i figli dei soci dai corsi di scuola vela per adulti ha la possibilità di approfittare del servizio di ristorazione del club del bar delle aree di parcheggio durante l'estate quindi io che magari devo passare qui Italia meglio che non ci vado ma non è vero perché ormai ormai è acqua passata tutto si fa regolarmente alla luce del giorno e non non c'è nulla da nascondere è bellissima questa cosa che hai detto proprio bisogna essere delle brave persone e quindi essere valutati perché ci sono delle regole comportamentali comportamentali gli stessi gli stessi gli organi dirigenti di una società sportiva sono tesserati presso una federazione sportiva dove in capo a tutto c'è il regolamento etico sportivo esattamente quindi un fair play un fair play quindi questo è tra parentesi lo sport della vela è uno sport dove il fair play la fa da padrone perché non esistono arbitri in acqua solo in alcune regate ci sono arbitri in acqua tutti gli errori si pagano con autopenalizzazioni autopenalizzazioni è uno sport da questo punto di vista di lecchia particolare uno sport di signori proprio perché conosci il regolamento di regata infrangi una regola ti devi autopenalizzare è come andare in un club dove trovi scritto solo per signori esistono anche società di questo tipo nel nostro signori non intendo dal punto di vista maschilistico esattamente ma solo per signori per gentleman per gentleman che può essere anche un motivo di vanto esatto 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 noi abbiamo ancora qualche secondo e da che età ci si può iscrivere? dai 6 ai 99 anni ci sono tanti tipi di imbarcazione tanti modi di poter approcciare al mare sia da un punto sportivo che anche solo da un punto di vista amatoriale il mare è salute il mare è vita il mare è l'antidepressivo naturale migliore che ci sia va bene noi stiamo per chiudere e possiamo andare sulla nostra onda social è giusto? vedo la regia che annuisce e salutiamo anche il nostro air director arrivederci e andiamo avanti e io nel frattempo ci ragiono su quello che mi dice questa cosa del gentleman non sempre ripeto non dal punto di vista non abbiamo organizzato pure al club dei raduni dei gentleman rider perché alcuni soci sono estimatori di motociclette d'epoca c'è cavallo c'è cavallo da noi sta cavallo è che tiene un garage pieno di moto c'è una bmw degli anni 50 che è fantastica però non me la darà mai e poi ci sono altri soci ex ammiragli un che c'è una r95 no guarda le dovresti venire a vedere perché non mi ricordo è che io le vedo ma mi fa entrare a me no vabbè io penso che no perché a me tu mi stai dicendo questa cosa e io sto iniziando a balbettare già mentalmente non ti dico come parlare io ti posso presentare un ex ammiraglio dell'esercito no 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 a me mi interessa vedere le motociclette e che insieme a cavallo colleziona motociclette e ha fatto un paio di appuntamenti di gentleman rider c'è una piccola rispetta VNB del 61 è bellissima è bellissima pensa che venne il barber allora mentre arrivavano i motociclisti c'erano tutte le moto in fila avevamo pure una regata di derive che doveva iniziare quindi con le boe e le barche in mezzo al piazzale c'era il tipo che faceva la barba col banchetto lì davanti è stato bello l'abbiamo fatto nel 2016 l'ultima volta allora ci siamo sentiti già un bel paio di volte un bel po' più di un paio di volte credo da giugno giusto? da... sì estate inoltrata mettiamola dall'estate allora la regia mi sta mandando mi sta facendo vedere da lontano una onografia la vado a vedere da vicino perché mi sa che anche lui ha una certa passione lo vedi? ah ma questa è la VNB? no 50 special prima serie sportellino c'è 50 special degli anni 60 in polo 64 64 metà 60 metà 60 è improvabile la prima serie sportellino piccolo bellina bellina io purtroppo devo vendere la mia VNB del 61 perché ahimè non ho più dove tenerla faccio l'annuncio la VNB a quanto? a 2005 sì c'è è tutto originale camminante e anche 125 motore tutto originale si farebbe da qua a Roma tranquillamente a 2008 eh certo hai trovato tranquillamente hai trovato e poi se è un amico o un conoscente è meglio esatto esatto bellissima questa parentesi che abbiamo si è aperto un mondo vedi conosci persone e si apre un mondo ti volevo chiedere anche un'altra cosa mi dicevi che sei entrato già da ben 11 anni alla Masuccio Salernitano sì sì in questi 11 anni hai avuto modo di prima stavamo parlando di soluzioni il Masuccio comunque ha nelle ultime due perturbazioni non è uscito molto bene ma in questi 11 anni hai mai visto un segnale un un qualche cosa che ti facesse sperare che ci fosse un'apertura a un miglioramento di quello che poi è il tuo lavoro quello che ho visto è che non dico dal club bellico perché abbiamo capito che il il lavoro è quello che ti inventi ogni mattina scendendo giù quando si parla di sport devi essere propositivo poi per quanto riguarda la sicurezza del porto quello che ho visto è che ci sono state operazioni di mappatura dei fondali operazioni di carotaggio sul pennello per capire come quando operare si è sempre parlato che è una questione di tempo no che c'è l'impossibilità o la mancanza di volontà per farlo quello che si spera è che questo tempo diminuisca sempre di più e si incominciano a vedere i lavori ok adesso rientriamo nell'FM e ti faccio ok e siamo ancora qui e Francesco non c'è più sono sicuro che non tornerà però sul social ti chiedevo Roberto nel frattempo aveva dimenticato un arnese di lavoro per questa mattina le cuffie ti chiedevo se in questi 11 anni hai visto dalla parte delle istituzioni un intervento nel masuccio serenitano non sono uno specialista in materia so che tutto si muove anche tramite la politica però quello che ho notato negli ultimi due anni è che ci sono state operazioni di mappatura dei fondali e ci sono state operazioni di carotaggio all'interno del pennello del molo foraneo proprio per stabilire che tipo di intervento si potesse fare si sa che ormai i tempi per l'intervento stanno diminuendo noi speriamo che siano i più brevi possibili anche perché questo inverno l'abbiamo potuto affrontare anche perché avevamo pontili in acqua di ultima generazione nuovi appena messi in acqua con grande sacrificio da parte dei soci delle società sportive non so se la stagione delle perturbazioni è finita o se finita questa stagione potremo affrontare un altro anno senza avere comunque altri gravi danni e se si levano risorse alle società per manutentare le società perché il porto non è sicuro alla fine quello che ne paga le spese è lo sport perché le stesse società si mantengono grazie all'attività di portistica più soldi devono investire nell'attività di portistica meno soldi ci saranno sempre per fare sport che poi è la cosa per cui nascono senti tu più parli a me più vengono domande ma anche dal punto di vista con le domande anche perché come vi dicevo ho atteso un bel po' di mesi per poterti avere qui e ultimamente sembrava veramente che tutte le calamità naturali e non si mettessero contro tra le queste anche un terremoto qualche qualche tempo fa giusto? si mi aveva fatto saltare la ponte ero andato a trovare degli amici a Roma il giorno dell'immacolata c'è stato il terremoto fra Frenze e Bologna e non riuscivo a tornare indietro per presentarmi al programma si colpa mia colpa ecco a me questo fatto che tu vai in barca anche d'inverno mi fa impressione cioè io vedo io già se vedo uno sul motorino a proposito di quello che stavamo parlando prima se vedo uno sul motorino mi fa freddo sento freddo io per lui tu vai in barca e quante volte all'anno ti ammali? cioè sembra una domanda strana però immagina un un genitore che manda il figlio in barca io sono educatore istruttore e allenatore specializzato in una fascia d'età di bambini che va dai 6 anni e mezzo ai 14 una responsabilità incredibile che hai iniziato quando? scusami io ho iniziato nel 1988 diretta nell'88 quando anni tiene? scusami faccio 40 anni fra 10 giorni 8 giorni 9 giorni e comunque il amare signori non si prende freddo quando fa freddo se si è vestiti adeguatamente io non mi ammalo mai i ragazzi che porto in acqua fin da piccoli non si ammalano mai tranne nei periodi in cui per mal tempo non riusciamo ad andare in acqua e stanno troppo tempo a contatto con bambini nelle loro classi nelle loro attività noi se potessimo stare mai questo saluto era voluto perché solo a vederlo non ci ammaleremo mai guarda io vengo proprio da tre giorni di influenza ed è una battaglia con i genitori dei bambini per fargli capire questa cosa poi quando i ragazzi i bambini diventano ragazzi e i genitori entrano nell'attività si rendono conto che tante cose che sembravano prima assurde sono invece la pura e vera realtà il male è salute e anche dal punto di vista fisico c'è uno sforzo notevole e infatti molti pensano che andare in barca a vela sia stare seduti col cocktail in mano e godersela mai pensato una cosa del genere è un sforzo che non forma il fisico può aiutare nello sviluppo delle capacità condizionali ma pretende pretende uno sviluppo del corpo a 360 gradi noi facciamo tanto 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 lavoro a secco con i gruppi sportivi e a proposito di questo io ci tengo a salutare due cari amici che mi hanno portato per la prima volta su una barca a vela erano i fratelli calce e ricordo che mi misero da un lato forse li conosci pure no forse sono arrivato dopo perché Peppe Calce aveva la barca fino a qualche anno fa proprio di fronte al club velico io ricordo una volta andammo 5-6 persone su una sua barca e stavamo a un certo punto stavamo tutti su un lato tutti su un bordo o su una murata tutti su una murata esattamente e a quel punto stavo iniziando a piangere pensavo adesso moriamo tutti e la barca andava sono barche calcolate per camminare molto inclinate e quindi ci si abitua anche a una prospettiva di uno scafo di una barca inclinata anche a più di 40 gradi sono barche sicure autoraddrizzanti possono affrontare il mare in base al tipo di progetto che hanno e adesso chiudo perché c'è la nostra regia che ci richiama all'ordine e allora che canzone c'è adesso sul modano il modano non mi piacciono no vabbè vabbè dai teniamocela dai dai tanto neanche ce la sentiamo che dici ah ho visto un giovanotti vedi guarda io sono fortunato perché evidentemente non c'è Francesco e Luca non ci fa mai cambiare la scaletta musicale giovanotti che cosa vuoi sentire di giovanotti che tanto manco ce la sentiamo ah ragazzo fortunato ah vabbè l'ho risentita pochi giorni fa e ho percepito un pantico eh un pantico ma ho percepito la vera essenza di quella canzone un ragazzo fortunato perché fa quello che mi hanno regalato un sogno perché qualcuno gli ha dato la possibilità di fare della sua passione il proprio lavoro esattamente chi ti ha dato questa passione a me questa passione me l'ha infusa non quella della musica quella della vela a me questa passione me l'ha infusa mio padre mio padre era più una curiosità la passione poi è venuta a me e la fortuna è stata trovarsi in un grande gruppo in un bel circolo nel posto giusto al momento giusto mettiamola così figurati giusto un attimo di pausa Regia quanto quanti talk abbiamo ancora uno giusto due e rientriamo e rientriamo tra quanto cinque minuti più o meno cinque minuti di social possiamo fare i bagordi quanto vogliamo Napoli Napoli o Castellammare no io sono Scafatese di origine mio padre mi ha portato a Castellammare perché era il punto più vicino c'era un bel movimento all'epoca e poi ho fatto vela in tutta la Campania in tutta Italia ho fatto vela quando al circolo velico Stabbia il consigliere alla vela era Don Gaetano di Martino che era uno dei fratelli di Martino del pastificio di Martino ho fatto vela da piccolo con i Di Capua della Faito fatto vela con i Di Capua della Faito loro erano un po' più grandicelli è stato poco che ero più piccolo Di Capua Faito Faito nessuna attinenza con Di Capua della Carlottieri di Carlottieri la verità poco per quanto riguarda le mie conoscenze perché anche se il mio circolo era a 15 metri dal circolo degli Abbagnale e c'erano Carmine e compagnia che tutti i giorni ci vedevamo quando hanno girato il film sugli Abbagnale noi eravamo piccolini uscivamo a vela per vedere le riprese non è che pre-fequentassimo il circolo a fianco anche perché poi soprattutto i bambini vivono la realtà del circolo solo in funzione del fatto che devono arrivare cambiarsi preparare le barche e vivere a mare il canottiere è più uno sportivo che non fa della sua attività tanto lavoro in acqua piuttosto c'è tanto lavoro di palestra e di preparazione dietro quindi orari diversi per andare in acqua loro cercavano condizioni senza vento di mare piatto mattina presto imbrunire mentre noi cercavamo proprio altre fasce di orario perché la cosa più era ventosa e agitata più era divertente io ricordo mi hai ricordato Iabagnale io vidi nell'88 la loro medaglia d'oro a Seul bellissima alla mattina bellissima sta iniziando la nostra canzoncina prima di andare a scuola ricordo che la diedero in diretta se non sbaglio era bisteccone Galeazzi Galeazzi c'era Galeazzi la diretta la diretta di quella medaglia d'oro storica per l'Italia ogni tanto me la ripeto pure io se la trovo bella rivederla bella sembra quando Rocky sembra Rocky 5 io che avevo 12 anni ed ero interessato non posso immaginare quanta gente poteva tanta carica tanta carica esatto il film io credo che racconti forse una bricela di quello che è stata la vera storia di Iabagnale poi molto romanzato ovviamente chiaramente chiaramente dietro a sport del genere così come il canottaggio così come il nuoto così come la vela ci si può si può scrivere tanto di romanzo anche perché la vela regala tanto proprio da questo punto di vista con gli stessi progetti scolastici che pure tramite il club velico salernitano sto facendo con la Matteo Mari e tra poco anche col vicinanza quando devo parlare di passione per il mare e i bambini certe volte non riesco a esprimermi proprio perché io sono uno di quelli là che dice venite a provare perché quello che vi può trasmettere fare questo gioco difficilmente lo proverete facendo altri tipi di sport non per niente è classificato come sport estremo ma non perché si rischia la vita è uno sport estremo perché dal mio punto di vista perché sono estreme le sensazioni che trasmette spesso adrenaliniche certo dal punto di vista delle Olimpiadi come è vista la situazione? abbiamo passato tanti anni a stare sulle spalle della nostra cara Sensini che è ai vertici della Federazione Italiana Vela ora che Alessandra si è levata un po' di torno perché dopo tre medaglie penso che abbia dimostrato già abbastanza si sta si sta puntando molto sui giovani cioè quelli lì che ci hanno fatto fare bella figura negli ultimi anni alle Olimpiadi di giovanili abbiamo nel 4,70 ottimi equipaggi maschili e femminili 4,70 di cosa? il 4,70 devi specificare perché è uno sport bellissimo la vela la vela è presente alle Olimpiadi se non mi sbaglio su sette discipline che sono la tavola a vela il catamarano una barca singola che si chiama Laser dove c'è un salernitano timoniere della guardia di finanza Marco Gallo che sta tentando penso l'ultima selezione olimpica il laser è una barca bellissima il laser è una barca bellissima a Salerno si fa tanto laser e ha grandissimi livelli anche al club velico ma anche nelle altre società ha una grossa tradizione sul laser si può dire secondo te che il laser è un po' come la Panda 730 la Panda 30 scusa sì perché nonostante sia un progetto vecchio è una barca che si dimostra solida la ricerca mi guarda mi curiosito perché la Panda non c'è niente è una barca che si dimostra semplice solida duratura comoda perché anche se l'albero è molto alto si fa in due parti si sposta tranquillamente con un'automobile ti dà indipendenza io sono più per i doppi che sono più belli sono più vicini come regolazioni come cura come tuning alle barche d'altura alle barche grandi quelle serie però i doppi hanno il problema dell'equipaggio hanno il problema i doppi sono barche dove si va in due dove non c'è solo il timoniere ma c'è anche il prodiere non c'è una vela sola ce ne sono due o addirittura tre ti faccio una domanda strana qual è la vela che preferisci dell'imbarco azione? io preferisco la randa che è la vela principale perché io sono stato timoniere nell'alco di tutta la mia carriera sportiva quindi io mangiavo pane e randa ogni giorno il mio è il fiocco il fiocco perché ci si pensa che quando mi aspetti è la vela più coraggiosa ma secondo me il ruolo anche di chi manovra il fiocco e sta a prua delle barche è il ruolo più coraggioso e adrenalinico perché dice un vecchio detto tra noi velisti che un timoniere scarso con un prodiere forte arriva ovunque un timoniere forte con un prodiere scarso fa poca strada esatto si ritorna con le cuffie e allora ricominciamo stiamo rientrando sulle note sulle note che va di quello del ragazzo fortunato siamo ragazzi fortunati viviamo quello che ci piace fare io alla radio con il giornale tu la vela e insomma c'è la regia che anche alla regia credo sia sia per lui piacevole stare dietro le quinte ci dice di sì ci dice di sì allora parlo un po' di sport news posso? certo certo grazie mi ha dato il permesso e allora cosa è successo nel mondo sportivo oggi? De Rossi lascia il bocca e si ritira nessun problema fisico voglio solo tornare dalla mia famiglia il centrocampista ex Roma lascia il bocca e a 36 anni appende le scarpette al chiodo golf la prima impresa dell'anno è firmata da Thomas alle Hawaii dodicesima vittoria in carriera sul PGA Tour per il 26enne Justin Thomas di Louisville che esulta ho giocato un ultimo giro strepitoso tra i migliori di sempre poi c'è Little Tennis l'Italia contro Stati Uniti per continuare in ATP Cup Australia unica qualificata gli azzurri sono ancora in corsa per passare il turno e proseguire la propria avventura dopo la sconfitta iniziale con la Russia e la vittoria sulla Norvegia come dicevamo l'Australia è già qualificata e allora faccio un attimo un sondaggio con la regia per chiedere quanto abbiamo? un minuto un minuto scarso mamma mia ma che si parla di che parliamo in un minuto? e si incominciano i saluti secondo me in un minuto e mezzo saluti? no no c'è ancora tempo per parlare dei saluti sì 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 e allora prima stavamo parlando durante il nostro break social social break come lo chiamo? il secondo è più carino social break social break sì 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 però non si mangia sa di qualcosa da mangiare pure a me mi è venuto snack quasi o brick come un mattone in faccia no stavamo parlando di quanto è bello andare in barca a vela e delle tipologie di barche della dell'impegno della della vela nelle olimpiadi sì diciamo che tutti gli equipaggi olimpici e quest'anno penso che ce la potremo giocare su tante classi le classi sono il tipo di imbarcazione scelto il tipo di imbarcazione fai le selezioni preolimpiche le selezioni olimpiche e poi se ce la fai qualifichi la tua nazione e vai a fare le olimpiadi e siamo rappresentati su sette discipline siamo già a buon punto e incrociamo le dita non dico più nulla perché non vorrei neanche essere tacciato di malocchio io sto a guardare sei il primo che dice questo qualche medaglia ci farebbe bene sì vabbè fino adesso non è andata malissimo no l'Italia l'Italia comunque è un paese di poeti a proposito e navigatori e navigatori sì 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 poi quello che vorrei avrei pensato a questa cosa? no anzi io propongo anche soprattutto ai salernitari di riflettere sul fatto che a quattro passi da loro c'è una delle repubbliche marinare esattamente esattamente è nel sangue tu segui quindi anche la regata delle repubbliche? la regata delle repubbliche no spesso sono impegnato anche ma anche perché è un'altra disciplina la regata delle repubbliche per me però sembra che sei in acqua si parla amico leggo mi informo ma non sono proprio un appassionato quello che volevo aggiungere però se abbiamo ancora qualche secondo è che tutte tutti i timonieri e degli equipaggi presenti alle olimpiadi sono tutti timonieri che sono nate dalle classi che sono le barche più diffuse al mondo che sono l'optimist per i bambini tra gli 8 e i 14 anni e sono il laser come singolo per esempio tra i 14 e il professionismo ok perfetto ce la sentiamo un po' facebook questa si posso posare stiamo salutando siamo solo su facebook in questo momento ok perfetto abbiamo un altro talk dopo questo con giusto un minuto vado stretto 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 presa l'ultima ah ok oltretutto questa è una canzone che a me piace molto a me piace il blues tutti i giorni a te che sei di comunque sei di Scafati però diciamo che culturalmente dal punto di vista sportivo sei cresciuto nella fascia nord sono cresciuto nel golfo di Napoli esatto bellisticamente parlando meglio il golfo di Napoli o il golfo di Salerno hanno colori e sfumature totalmente diverse dal punto di vista del vento ci sono d'estate secondo me no non lo so sono belli tutti e due sono zone estremamente risposta diplomatica no 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 perché da tutte e due le parti io che cerco vento mare bellezza non posso dire che Salerno sia più brutto di Napoli il Vesuvio fa un determinato effetto la costiera amalfitana ne fa un altro puntalicosa quando si vede è ancora un altro effetto puntalicosa è meravigliosa per me le montagne subito a ridosso della città di Salerno da mare sono un altro effetto Napoli col Castel dell'Ovo è un altro effetto il faiito a Castellammare con la termica estiva è uno spettacolo dove ti trovi trovi dalle nostre parti è bello il posto più bello dove sei andato in barca vabbè il posto più bello dove sono andato in barca ha dato anche più soddisfazione dove ho avuto dove ho avuto i Natali il cuore sotto il faiito a Castellammare ma perché hai ricordi più belli ricordi della fanciullezza dell'infanzia dell'innocenza l'unico posto dove sei andato in barca io ho girato tutta Italia anche parte dell'Europa sportivamente parlando le bellezze che abbiamo noi i paesaggi che abbiamo noi i colori che abbiamo noi li ho visti in poche parti forse della Sicilia della Sardegna ma non abbiamo da invidiare niente a nessuno condizioni meteo anche parlando bellissimo immagino quanto deve essere hai mai fatto hai mai sognato di fare una non si può dire circa una navigazione però una navigazione da 20 miglia fino a Trieste sì ma ci sono anche tanti amici e colleghi che è una cosa piccola stranamente nonostante stanno a mare tutto l'anno a lavorare non vedono l'ora di staccare dal lavoro prendere una barca e giocare per i fatti loro e fare queste cose cuffie in testa e salutino e allora ci siamo ci siamo con i saluti io Francesco non l'ho visto più regia tu l'hai visto da qualche parte no è stata una puntata bellissima che dici Roberto? no veramente bella sono partito un po' emozionato però penso di essermi sciolto e ti ringrazio anche per avermi messo al mio agio e io mi sono no no sei stato bravissimo secondo me Francesco è inutile a questo punto e gli facciamo tanti auguri anche se non l'ho potuto incontrare esattamente esattamente rapidissimamente prossimi incontri per la Club Bellico Salernitano 19 gennaio tappa dell'invernale d'altura venite a vederci a correte numerosi ottimo ottimo allora io vi saluto ancora saluti alla regia grazie alla regia saluti anche alla tua fidanzata che ci ha accompagnato è qui Angela io sono Lino Grimaldiavino di Salerno Sport 24 questa è destinazione sport a lunedì prossimo nel frattempo sabato anzi venerdì c'è destinazione speciale calciomercato non mancate arrivederci a tutti ciao arrivederci e salutiamo anche i nostri amici di Facebook Facebook è ancora aperto arrivederci ragazzi arrivederci grazie grazie a tutti grazie a tutti